Eccoci qua ragazzi, sto continuando perché mi sembra logico che ormai che ho capito come finalmente posso tradurre questi cazzo di caratteri e finalmente, poi dopo l'ho intratto, c'è una cosa importante però è chiara, prima devo tradurre tutti questi caratteri, poi dopo devo tradurre dall'inglese per capire che cosa sto leggendo. Allora, quella non è la n, quella è la r, mento, moment, advance on, 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 to, su, su. Aspetta un attimo, quella specie di parentesi col punto è la U allora, ah, finalmente, sto finalmente riuscendo a combinare caratteri a lettere. E quindi, acqua, ho trovato l'acqua, quindi si torna, cioè, quindi si, si possono affiare più, bene bene abbiamo l'acqua, abbiamo l'acqua. Sì, abbiamo l'acqua, e che cazzo ci faccio se non posso sapere, devo vedere che c'è scritto sul cazzo di pannello. Allora, questa è la blu, bene, ora, la stresco con la pallina, aspetta, questa, allora, questa dovrebbe essere N, ok. E questa dovrebbe essere N, lini, lini, line, no, devo, no, aspetta, abbiamo un coso qua, allora, no, non è questo, quella della, la parentesi a destra e il puntino, la parentesi a destra e il puntino a destra. Ora devo trovare lo slash, questa dovrebbe essere la U, l'U, o la K. oh cazzo vabbè quindi devo incominciare a segnarmi le parole comunque non ne sono sicuro devo vabbè dovremmo un pazzo di carta e quando riesco a abbinare giù perché no così ma fine che difficilissime portarsi di carattere una lettera corrispondente quindi è meglio che andrò a fare un'altra conformata qua lo stesso libro allora succede o r vince quindi quindi deve essere la u ok poi quell'altro era la u e quindi questo dovrebbe essere la k forse o no allora la parentesi in alto e punti in basso succede il aspetta parentesi in alto e punti in basso questo è mai lungo quindi se trovo una cazzo lì è questa da là o slash dovrebbe essere doppio b smette casa dolce casa ok vediamo un po' cosa ci stanno da qualche parte che mi fanno tradurre io ormai questi appartamenti in alto e questo non ho visto nessuna parte che cazzo di carattere niente da fare stampatello che era più facile identificato di noi aiutare un po' il giocatore manico per il cazzo di bassa e allora allora scienze 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 della finizione di sto cazzo aspetta un po' vai quindi parentesi in alto punto in basso io youtube young ragazzino giovane quindi ci ah finalmente l'anima dei mortacci tuoi ho cercato che tremore ah ah non fa ancora no non è v è doppia v cazzo ah che due coglioni ah om svett om casa dolce casa anche se sinceramente la traduzione non dovrebbe essere così quindi vediamo un po' se ci sta qualcosa ecco questa è da essere la iunga bene e questa allora non può essere altro che la K dovrebbe essere la K vabbè c'è soluzione devo essere sicuro al 100% che sia la K qua non ci stanno più no a parte quello vicino al pianoforte di quella specie di gigantesca palla con un pene minuscolo però ho un dubbio quella specie di pallina se non mi sbaglio l'ho già vista da qualche parte e forse proprio qui allora secondo quello che riesco a capire devo ci sta una una lettera F quello dovrebbe essere flip 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 on flip allora first flip ma certo beh adesso ne ho la certezza devo vedere se sta qua però no dove l'ho visto già col carattere dove l'ho visto già col carattere dove l'ho visto già col carattere non mi ricordo dove l'ho visto eh mammaia mi sa mi sa che mi dovrò fare in giro dentro tutti i palati di tutti gli appartamenti per capire dove cazzo sta col carattere ecco ecco dove cazzo stava la r ma vaffanculo stava roba qua non l'ho vista ehm sto gioco dopo un po' di l'incoglionissima proprio di brutto cioè hai le cose sotto gli occhi e non le vedi ehm no non è il personaggio che sbaglia sono io non so non è stato addormentato pure io allora allora dove devo andare a parte a far cura allora scusate se sto facendo tanti giri inutili ma che sto cercando di capire dove possono stare tutti sti cazzo di cubi perchè tecnicamente ormai i cubi sono quasi finiti a parte questo e quello dentro la biblioteca vediamo un po' se si riesce a capire allora ehm un po' se si riesce a capire quello però voglio essere sicuro voglio fare altre cazze ok adesso andrò la certezza quella è una P Infatti se ora vado a leggere il foglio Flip A e B su ON Poi mettere C in OFF E poi I su ON Allora prima devo mettere C su OFF Poi devo mettere A e B su ON Di mettere C su ON E poi mettere E su OFF Questo dovrebbe essere quello giusto Però voglio prima cambiare tutti i caratteri Hai visto mai che se non lo faccio Si crasha il gioco? Si Ormai è chiaro che per poter accedere all'ascensore Devo fare tutti questi meccanismi Naturalmente c'è anche che devo premere il pulsante dell'ascensore Però prima di accedere vorrei risolvere Un po' questo fattore del piano Hai visto mai che mi dà qualche cosa di importante? Che finalmente... Magari mi fa trovare un cazzo di cubo? Ti vuoi posizionare? Ti posizioni? Si Ok Allora Nuovo vediamo un po' i tasti che devo premere Allora Allora Questo non funziona Questo si però Deve essere una sequenza Allora devo cercare due Tre caratteri Tre cose sopra funzionanti Ok Deve fare una scala Questo funziona Allora così Allora Centrale no no ok poi viene non sono E allora? Ultimo strofono E che cazzo è? Tutto sto casino per qualcosa che non riesco a ferrare! A che è servito? A che è servito? A un cazzo! È servito solamente a prolungare il gioco A allungare il brodo Due palle Va bene, faccio questo fatto con Allora Mettere C su ON Allora Mettere C su ON Allora C Già sto su ON Ah no Ok ON ON Mettere C su OFF E prendere O E su ON OFF Ok Ho fatto Benissimo Adesso andiamo Ok Ok Adesso devo dormire Tanto l'acqua ce l'ho Già dormire Eh Non so Ci stavano Mettere Ancora qualcosa Ok Dai Ma qua ci sto a letto Dormiamo? Andiamo a dire sta cazzo di ascensore Dai Dai Corri Corri Si Con la merda di piedi Corri 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 Dai Apri Sfonda Cazzo Mi hai crashato Frappi del cazzo 4